Massimiliano Fedriga, il Governo respinge gli emendamenti presentati dalla Lega Nord sul tema degli sodati? Sì, noi abbiamo cercato di rimettere in piedi un testo modificato dal Governo in maniera drammatica perché va ad escludere moltissime categorie e lascia per strada centinaia di migliaia di persone che sono rimaste o rischiano di rimanere senza alcun tipo di reddito. Purtroppo la maggioranza del Partito Democratico di Renzi e il Governo hanno deciso di bocciare queste nostre istanze con l'ennesima promessa che la situazione verrà affrontata e risolta in maniera strutturale. Peccato che è da più di due anni che aspettiamo questa soluzione strutturale che dai governi di centro-siristra non arriva mai. Insomma, le solite promesse di Renzi mai rispettate. Non solo, la copertura che viene utilizzata per andare a coprire l'emendamento del Governo è l'utilizzo dei fondi per gli ammortizzatori sociali in deroga. Insomma, una masura vergognosa che vuole mettere categorie a rischio contro altre categorie a rischio. Noi avevamo presentato soluzioni alternative, strutturali, come per esempio andare ad aumentare i risparmi della spending review, vuol dire andare a diminuire gli sprechi per andare a tutelare gli esodati. Loro invece, il Governo di Renzi, ha preferito colpire i mobilitati e coloro che vivono la crisi occupazionale. Voi che emendamenti avete presentato? Diversi emendamenti per aumentare i tempi delle salvaguardie, per andare ad includere nuove categorie, infine anche questo per andare a rivedere le coperture e non utilizzare i fondi per gli ammortizzatori sociali in deroga.